Penso che non siamo partiti come volevamo e speravamo, la posso togliere? Abbiamo sbagliato l'approccio alla gara e abbiamo preso subito gol sul rigore. Non è andato come speravamo, però dobbiamo ripartire e questa sconfitta ci deve insegnare tanto e testa già la prossima partita. Penso che loro si abbassavano molto con gli attaccanti per venirci a marcare, per venire appunto sui centrocampisti e dovevamo muoverla più velocemente. Non è mai facile trovare gli spazi quando le squadre si vengono a chiudere dietro, però dobbiamo fare sicuramente di più. Gli episodi condizionano sicuramente la gara a mio modo di vedere, però sappiamo che oggi non abbiamo fatto bene, abbiamo fatto benissimo il primo tempo, possiamo fare sicuramente di più. Se giochiamo tutti uniti e compatti possiamo andare lontano. Se invece ci sfaldiamo un po' come è successo il primo tempo, facciamo fatica. Ma assolutamente no, non penso che eravamo dei fenomeni una settimana fa e ora siamo diventati tutti scarsi. Penso che ogni partita è una partita a sé, condizionata da alcuni episodi. Ripeto, possiamo fare di più, ma siamo molto tranquilli perché se giochiamo tutti uniti possiamo fare sicuramente bene. Non guardiamo gli arbitri, purtroppo ci sono anche le decisioni storte in una giornata e dobbiamo essere più forti di questo. Una partita stimolante, daremo tutto per dimostrare che siamo un'ottima squadra e che possiamo giocarcela con tutti.